Ciao a tutti, bentornati sul mio canale torna con un video di action perchè questa mattina dopo un meraviglioso anno intero gli ex hanno deciso di fare comeback hanno deciso finalmente di fare comeback mamma mia non vedevo l'ora, era ora diciamo veramente ora e infatti si vengono fuori con una canzone che si chiama Tempo infatti è Tempo Stingio ragazzi, quindi è meglio vedere questo video perchè ho l'ansia da stamattina e voglio vedere quanto sarà bella la canzone quanto sono belli loro, sto già male all'idea aiutano, sono un rambo, mi sto molto rambo via davvero le volte ci sono le mosse oddio 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 ma do no 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 cos'è Kai con la magliettina di fuoco wow cosa sono questi outfit bellissimi oddio bellissimo oddio che capelli mi hai no no sei un ganso basta eeeh qua oddio no no oddio mi sto uff le robe che non vanno bene madonna ma che bello che sei oddio allora con questi capelli adoro madonna ma cos'è oh o maronna cos'è con le lenti ma sei pazzo vai via eeeh che non so il gnomettino che va messo sul mio comodino è il mio gnomettino ma che bello che sei oddio madonna sono bellissimi no 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 cos'è no cos'è con i capelli fai un punto devo con questi capelli basta no senti ma che canzone figa è tocca voglia cosa sta succedendo ehi madonna kai è un meraviglioso ma cos'è che figli sti scacchi ciao leiii aiuta madonna cos'è quella cosa ehi madonna è bellissima kai madonna ma è stranissimo vederlo lei di nuovo ma che cos'è questo chani un po' nerd ehi che bui a parte che io mi aspettavo gare di moto e rovedeggi madonna cos'è sta cosa mi sto scherzando madonna no taci cosa ma dove ma perché cos'è quella traccia madonna cos'è quella cosa che cattiveria ma è tempo è stranissimo vabbè ciao kai mamma mia questi capelli ma cos'è sta cosa super io e le moto servivano per andarsene via e arrivare va bene no ma è finito ma il co cioè è finito tecnicamente è finito ma si è finito ahhh che bello devo ascoltare la canzone è fighissima mamma mia che figata dopo un anno sono arrivati sono tornati con questa bomba atomica e c'è lei finalmente è tornato lei che bello che bello bene lei non abbandonarci più grazie bellissima sono così emozionata aiuto so che è già uscito l'album quindi devo ascoltarmelo domani me lo ascolto a lavoro io ah che bello sono tutti bellissimi cioè non ce n'è uno messo male ah che bello va bene fatemi sapere qui sotto se seguite gli ex se siete degli ex se siete così felici finalmente di visti ditevi se siete felici che sia tornato lei mamma mia e basta noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao